Buona ragazzi, benvenuti in questo nuovo video sul canale del reparto corte. Ciao ragazzi, siamo partiti alle 5 e mezza, stiamo andando qua, ma che bello che si vede con la luce del sole, al Motor Days di Omniauto, ci faranno molte auto, le proveremo tutte, ci vediamo direttamente in pista, ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!